Dalla provincia dei Tesori alla provincia dei Sapori. Per incrementare le presenze turistiche sul nostro territorio, Visit Brescia questa volta ha deciso di puntare sulla cultura enogastronomica unita all'immensa platea social. La variegata proposta culinaria della nostra provincia verrà posta sotto i riflettori del pubblico italiano e straniero, esaltando al coltempo il lavoro di produttori e chef stellati. Per otto settimane 16 produttori presenteranno online sui canali social di Visit Brescia tipicità gastronomiche e materie prime della propria area d'appartenenza, dalla pianura alla Valsabbia, dalla Godiseo alla Valtrompia, mentre saranno proprio gli chef ad esaltarne le tipicità. Un progetto veramente importante che ha l'obiettivo di portare sul territorio quel turismo a noi limitrofo in questo momento, che è il turismo al quale stiamo puntando viste le situazioni post-covid e quindi proprio far venire voglia ai lombardi fuori dalla provincia di Brescia, ma a tutti i cittadini italiani, soprattutto dalle regioni a noi limitrofe, di venire a soggiornare una notte in provincia di Brescia e assaporare nei ristoranti preziosi e pregiati che abbiamo in provincia le prelibatezze che la nostra cucina può esprimere. La Camera di Commercio ha nella promozione del turismo una linea strategica fondamentale e quindi l'investimento che destina alla promozione del territorio è consistente. Visit Brescia sta usando queste risorse per iniziative. Oggi presentiamo la provincia dei Sapori, un'iniziativa molto innovativa che fa leva sulle caratteristiche della nostra provincia, che ha delle specificità inogastronomiche straordinarie e che può essere complementare all'offerta turistica più classica che ci vede protagonisti nella cultura, nella storia, nell'architettura, nelle bellezze ambientali. Testimonia al decezione il maestro pasticcere Iginio Massari. In questo territorio ricco di storia si vedono le persone, la comunità che va alla ricerca dei prodotti pregiati che sono il simbolo di una storia, sono il simbolo delle capacità di uomini che non si arrendono mai e che sono sempre presenti per dare alla città e alla provincia quella chicca che molte persone non riescono a capire. Cosa vuol dire? Che le eccezionalità si vedono da lontano senza tante raccontare storie.